E' morta la donna di 49 anni rimasta sotto le macerie di un muro di pietra crollato martedì mattina alle 8 e 30 in via del Dietropoggio a Calenzano. La vittima stava camminando a piedi quando è stata schiacciata dalle pietre. A prestare i primi soccorsi sono stati vigili del fuoco di Firenze, poi sono intervenuti il personale del 118 e l'elisoccorso che l'ha trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Careggi. ricoverata in terapia intensiva è deceduta a causa delle lesioni riportate. La lunga parete in pietra delimita una proprietà privata che non era in buone condizioni già da tempo e potrebbe essere ceduta a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Più volte i residenti si erano detti preoccupati per quelle pericolose inclinazioni. Questa strada è pericolosa per i muri che erano molto pendenti verso la strada. Tant'è vero c'è stato già dei crolli, qui accanto vedete c'è dei contrafforti proprio perché era caduto già un paio d'anni fa questo muro. E niente, quindi tutti erano preoccupati ma nessuno se ne è reso conto praticamente. Però la pendenza del muro non succede in un giorno o due ma ci vuole anni. Quindi si poteva benissimo prevedere questo pericolo e quindi porre il rimedio. I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi meccanici per rimuovere le macerie che si sono accumulate lungo la strada. Le operazioni sono andate avanti diverse ore per scongiurare la presenza di altre persone e liberare il percorso. Il muro crollato è di proprietà privata. In passato era di una facoltosa famiglia che risiede fuori dal comune mentre adesso è di un privato straniero.